Adesso il maestro Pierluigi D'Amato, che oltre ad essere pianista tecnologo, perché sinceramente una cosa del genere non sapere neanche dove collegare le spine, è anche compositore, anche compositore, a differenza, io per esempio arancio molto bene, ma non so scrivere nulla, cioè non mi viene l'idea, ma anche se sto da 4 giorni, in periodo di origine delle idee, non lo so pure belle, quindi per cui adesso Pierluigi ci fa ascoltare una delle sue fantastiche idee. Prego! Grazie a tutti! 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 !